Nel Vangelo di oggi si raccontano tre parabole che parlano del Regno di Dio, dove compaiono tre oggetti che ci aiutano a capire meglio che cos'è questa realtà che chiamiamo Regno di Dio, la Casa di Dio, il luogo dove il Signore regna. E questi tre oggetti sono un tesoro nascosto in un campo, una perla preziosa e una rete gettata nel mare. Il luogo dove Dio regna vuole essere il nostro cuore. Dio e il Regno di Dio sono il modo attraverso cui Lui rende noi stessi signori della nostra vita e questo passa necessariamente attraverso questi tre oggetti, queste tre esperienze. La prima è quella del tesoro nascosto in un campo. Il Regno di Dio, la pienezza della nostra libertà, è un qualcosa che capita, che trovi. È una sorta di colpo di fulmine nella storia che puoi riconoscere, che puoi vedere, dove a un certo punto senti che qualcosa tra le persone che incontri, tra le esperienze che fai, tra ciò che vivi, fa per te. Non è lontano il Regno di Dio, è qualcosa che ti chiama, è qualcosa che fa parte della tua vita, è lì in mezzo alle cose di tutti i giorni. Secondo oggetto, seconda esperienza, quella della perla. La perla preziosa dice di un gusto costruito nel tempo. Il mercante di perle preziose è colui che trova quella perla, più preziosa di tutte le altre, perché ha allenato lo sguardo per poterla riconoscere. Ebbene, la nostra libertà trova ciò che la riempie, trova il suo compimento quando giorno per giorno si è allenata a trovare ciò che la compie, ciò che la rende bella. Le perle chiedono un allenamento, chiedono di far crescere già oggi il gusto per le perle. Terza e ultima cosa, la rete gettata nel mare. La rete è quell'oggetto che serve per tirare fuori i pesci dal pelo dell'acqua, perché lì sotto le cose si vedono un po' peggio, non si riesce a discernere, a riconoscere le cose mentre sei impegnato a galleggiare, a nuotare nel mare della vita, immerso nelle cose di tutti i giorni. È necessario inserire una rete che ti tiri fuori. Questo fa la preghiera, ci rende capaci di tirarci fuori dalle cose della nostra vita e di guardarle con un'ottica diversa, l'ottica di Dio, dentro cui le cose assumono un significato diverso, più pieno, non quello del nostro sguardo ridotto, ma quello dello sguardo di Dio.